Benvenuti nel terzo video creativo del contest di Creature Fantasy. Se siete incappati in questo video a caso e non sapete di cosa sto parlando, vi rimando al video del regolamento che trovate in descrizione o come parte di questa playlist. Altrimenti procediamo. Oggi andiamo più in dettaglio su quelle che sono le influenze culturali che possono portare allo sviluppo delle società di queste creature e di come poter sfruttare queste domande per caratterizzarle più in dettaglio. Quindi la vostra creatura si è elevata dalla melma da cui è nata e la sua civiltà è cresciuta costituendo una società complessa. Come possiamo creare tale società? Con il tempo le specie intelligenti sono sempre meno suscettibili alle pressioni biologiche e la loro società inizia a costruirsi sempre più attorno a comportamenti socioculturali. Chiedetevi quali sono i costrutti sociali che determineranno il modo di pensare degli individui. Le creature statiche risultano poco realistiche. Per renderle dinamiche la chiave è rappresentata dal cambiamento. Mostrate un diverso set socioculturale in diverse popolazioni, così come un'evoluzione del linguaggio culturale nel tempo. Chiedetevi come cambia la cultura nello spazio, quindi in diverse regioni, e come cambia nel tempo, quindi in diverse epoche. Le caste sociali sono una componente importante della società. Pensate a che caste sociali possono essere presenti, se sono ben definite o dai contorni fumosi. Le persone possono facilmente passare da una all'altra o queste sono impermeabili. Circostanze localizzate portano ad adattamenti localizzati. Popolazioni isolate tendono a sviluppare peculiarità culturali, mentre contatti irregolari tra popolazioni diverse portano a contaminazioni culturali, quindi a culture più simili o influenzate l'una dall'altra. Pensate se le vostre creature sono isolate o ben integrate in un ambiente multiculturale. Ogni aspetto della cultura coesiste insieme a tutti gli altri, e gli elementi socioculturali si influenzano l'un con l'altro modificandosi nel tempo. La filosofia può ispirare movimenti politici, che possono portare a cambiamenti nel sistema delle classi sociali, il che causa alterazioni nel sistema economico. Chiedetevi se i costrutti sociali che avete ideato vanno a influire su altri aspetti culturali. Questi sono un po' i suggerimenti che volevo buttarvi in faccia per questa nuova fase del contest. E adesso passiamo alla fase invece in cui vi riassumo lo stato della lavorazione di tutte le creature che stiamo creando, più qualche aggiunta che ho fatto io mettendo insieme tutti i vostri suggerimenti. L'Erevorus è una creatura eterea e mistica, incarnazione di un equilibrio perfetto tra materia organica e pura energia dell'aria. Il suo corpo è fluido e trasparente, attraversato da tentacoli e filamenti che fluttuano con grazia nell'aria, come se danzassero con le correnti. All'interno pulsano vene luminose che si accendono ogni volta che l'Erevorus assorbe l'aria circostante per nutrirsi. I suoi piccoli occhi brillanti emettono una luce soffusa e la creatura può affondersi quasi totalmente con l'ambiente, diventando invisibile, se non sotto la luce diretta del sole o di altre fonti artificiali. Dotato di ali fragili e sottili, espruta le correnti dell'aria per muoversi con una grazia e un'agilità sorprendenti. Essere antico e mistico, l'Erevorus è un custode del pianeta, nato dall'unione tra gli elementi e la volontà di madre natura. Vive in simbiosi con l'ambiente naturale, traendo forza e nutrimento dalle piante attraverso l'aria, e si dedica con devozione a proteggere gli ecosistemi, in particolare quelli legati al regno vegetale. La sua presenza è delicata e benevola. Quando è sereno, si manifesta come una brezza leggera, portando pace e armonia. Tuttavia, se l'equilibrio naturale è minacciato, l'Erevorus può trasformarsi in una forza letale. I suoi tentacoli, solitamente morbidi e fluttuanti, diventano affilati e letali, capaci di infilarsi nelle vie aeree degli aggressori e privarli dell'ossigeno, soppocandoli. L'Erevorus non attacca mai senza motivo, agisce solo per difendere l'armonia e ristabilire l'equilibrio. Il ciclo riproduttivo dell'Erevorus è un rituale spettacolare profondamente legato agli elementi. Le creature si radunano in grandi stormi, fluttuando in sincronia nell'aria, come un unico organismo. Durante il rituale si connettono attraverso un tentacolo speciale chiamato Aerocorda, con filamento traslucido e pulsante e simile a una vena luminosa. L'ossigeno raccolto dall'aria viene incanalato e bruciato in un processo che genera calore e amplifica l'energia vitale della creatura. Da questo processo nascono le lacrime del vento, piccole gocce di energia condensata che prima di toccare il suolo evaporano in un'esplosione d'aria pura, dando vita a nuovi Erevorus. Questo evento sacro è raro e avviene solamente in condizioni di pace ed equilibrio ambientale, rendendolo un momento di straordinaria bellezza e di grande significato per la specie. L'Erevorus ha un'origine avvolta nel mistero. Si ritiene che sia nato come un'emanazione di una forza primordiale dell'aria, uno spirito elementale, antico quanto il pianeta stesso. Questa forza, agendo per proteggere gli ecosistemi e mantenere l'equilibrio atmosferico, avrebbe generato frammenti di sé sotto forma di Erevorus. Ogni creatura, quindi, incarna una porzione di questa energia originaria, agendo come custode e protettore degli elementi naturali. Alcuni credono che possono essere veri e propri elementali, generati da una divinità dell'aria o nati spontaneamente dalla fusione tra energia e materia. Qualunque sia la loro origine, la loro esistenza è intrinsecamente legata al benessere e all'atturezza dell'ambiente che li circonda. L'Erevorus non solo è un abitante dell'aria, ma un guardiano attivo che influenza l'equilibrio naturale. La sua presenza stabilizza le correnti d'aria e purifica l'atmosfera, aiutando le piante a prosperare. La simbiosi tra gli Erevorus e l'ambiente crea un ciclo virtuoso. Essi traggono energia dall'aria e restituiscono purezza e armonia, mantenendo la vita terrestre in equilibrio. Essendo creature etere e benevole, la loro scomparsa o indebolimento potrebbe portare a squilibri atmosferici e disastri naturali, rendendo la loro protezione un compito sacro, non solo per loro, ma anche per chiunque viva sotto la loro influenza. Da questo punto di vista mi sembrano un po' una fusione tra le meduse, che sono un indicatore della purezza dell'acqua, perché in acque inquinate non vivono e schiattano, o e anche delle api, delle api che devono essere protette perché svolgono un ruolo fondamentale per l'ecosistema. Ecco, l'Erevorus lo vede un po' come una creatura del genere. Sopravvive solamente in luoghi puri e contribuisce a renderli migliori, quindi devi proteggerlo affinché ti aiuti a purificare alcune zone. Cioè nel senso si instaura un circolo virtuoso quando lo proteggi e si instaura un circolo vizioso quando iniziano a morire. Questo è chiaro. Immagino già dei tentativi di reintrodurre in natura questi piccoli elementali per cercare di rendere feconde delle zone che magari stanno andando in malora. Penso per esempio ai deserti. Se vuoi cercare di far tornare della vita nel deserto, perché il deserto non è privo di vita, però diciamo, nel senso ci siamo capiti. L'introduzione di Erevorus in alcune zone contaminate potrebbe anche essere un tentativo di risanarle, per esempio per bonificare paludi o luoghi del genere. Anche luoghi radioattivi o con scorie tossiche. C'è in realtà un sacco di applicazioni. Gli Anarrakr sono gigantesche e pacifiche creature dotate di un potere unico, la capacità di scolpire il tempo stesso. Con un semplice movimento delle loro mani colossali possono generare onde temporali, rallentando o accelerando il flusso del tempo attorno a loro. Questa straordinaria abilità è profondamente legata alla loro connessione con antichi monoliti di pietra, misteriosi artefatti che assorbono e canalizzano l'energia temporale dell'ambiente circostante, funzionando da catalizzatori per le manipolazioni temporali. Nella cultura degli Anarrakr, il controllo del tempo non è mai un'azione compiuta con leggerezza. È un atto sacro, riservato solo a momenti di grande importanza, poiché essi comprendono il peso delle conseguenze che può avere un'alterazione temporale. Gli antichi monoliti non sono solo fonti di magia, ma veri e propri portali temporali, attraverso i quali è possibile viaggiare tra le epoche. Gli Anarrakr, custodi di questi passaggi, li proteggono con devozione e proteggono queste soglie temporali per impedire che l'uso sconsiderato del potere possa compromettere l'integrità del plusso temporale stesso. Chi desidera attraversare un portale deve offrire un pedaggio, ma questo non è sempre un pagamento materiale. Più spesso richiede un atto di comprensione, rispetto e umiltà verso le leggi del tempo. Solo coloro che dimostrano di essere degni e consapevoli delle responsabilità legate al viaggio temporale possono varcare questi passaggi sotto il vigile controllo degli Anarrakr. Le origini degli Anarrakr sono avvolte nel mistero, ma molte leggende suggeriscono che essi siano i discendenti di antiche divinità o esseri immortali che un tempo governavano il flusso del tempo. Secondo queste storie, i progenitori degli Anarrakr avrebbero donato parte del loro potere al mondo mortale, generando una stirpe di guardiani incaricati di preservare l'ordine temporale. I monoliti, antiche reliquie delle divinità, racchiudono immense quantità di energia temporale e sono al centro della cultura degli Anarrakr, che venera il tempo con una forza sacra e intoccata. La società degli Anarrakr ruota attorno alla comprensione e al rispetto del tempo. Le loro leggi e tradizioni si basano sull'idea che il tempo non è una risorsa da sfruttare, ma una dimensione da custodire. Ogni manipolazione temporale è considerata un atto di grande responsabilità e viene effettuata solo dopo lunghi rituali di contemplazione e discussione. Un po' tipo enta consulta, me l'immagino. Gli Anarrakr celebrano il tempo come un flusso continuo che unisce passato, presente e futuro, ritenendo che ogni interferenza possa avere ripercussioni inimmaginabili su tutte le epoche. Come guardiani del tempo, gli Anarrakr giocano un ruolo cruciale nel mantenere l'equilibrio del mondo. Sebbene siano creature pacifiche, intervengono con forza se il flusso temporale è minacciato, agendo come arbitri imparziati. La loro presenza presso i monoliti è essenziale per proteggere questi artefatti da coloro che tentano di sfruttare il potere per scopi egoistici e distruttivi. Nonostante la loro forza e maestosità, gli Anarrakr sono creature profondamente spirituali, consapevoli che il loro ruolo come custodi del tempo è sia un dono che un peso tramandato dai loro progenitori divini. In sintesi, gli Anarrakr rappresentano un ponte tra il sacro e il naturale, uniti dalla missione di custodire il tempo come la più preziosa delle risorse, proteggendo i monoliti e preservando l'armonia temporale del mondo. Gli Arvian sono maestosi uccelli antropomorti che abitano città fluttuanti, costruite sulle antiche macchine volanti di una civiltà dimenticata. Queste città-navi, immense strutture di legno e metallo, solcano i cieli come isole fluttuanti, unendo il fascino nostalgico del passato a una tecnologia avanzata, alimentata da complessi meccanismi a vapore. Le città degli Arvian sono tanto funzionali quanto artistiche. I meccanismi a vista si mescolano a intricati intagli di legno, evocando un'atmosfera retrofuturistica che celebra la loro eredità e i loro spiriti innovativi. Gli Arvian sono una razza fiera e guerriera, ma anche straordinari maestri nell'arte della forgia. La loro abilità unica permette di creare armi e armature dalle particelle atmosferiche, unendo la magia e la meccanica per plasmare nuvole in strumenti eleganti e letali. Ogni arma è molto più di un semplice oggetto, è una storia, è un filo che lega il destino del fabbro a quello del guerriero che la brandirà. Forgiare un'arma è considerato un rituale sacro in cui tecnica e narrazione si intrecciano per creare non solo strumenti di combattimento ma anche opere d'arte intrise di significato e memoria. Gli Arvian hanno sviluppato un sistema di comunicazione straordinariamente complesso che unisce il verbale e il visivo. Per comunicare tracciano spirali in cui ogni tratto o combinazione rappresenta un concetto specifico. Ogni colore corrisponde a un'emozione e la combinazione di colori con le spirali conforisce profondità e tono a ogni parola. Questa comunicazione visiva si è evoluta in un'arte raffinata dove ogni discussione o racconto può divergere in infiniti percorsi arricchendosi di nuovi significati e sfumature emozionali. Tuttavia il sistema cromatico presenta sfide significative. La traduzione di testi antichi è spesso impossibile poiché il colore elemento essenziale del loro linguaggio sbiadisce col tempo. I manoscritti più vecchi sono ormai illegibili o perlomeno non si riesce più a comprendere l'intenzione originale di chi li aveva scritti e le opere letterarie contemporanee come poesie o romanzi possono essere apprezzate appieno solo in musei specializzati dotati di tecnologie per riprodurre fedelmente i colori originali. Il canto è un elemento centrale nella cultura degli Arvian combinato con il teatro e la lettura poetica. Creano poesie cromatiche opere che integrano le spirali colorate con il suono delle parole trasformando la comunicazione in un'esperienza multisensoriale. Brevi composizioni vocali vengono utilizzate come dichiarazione di intimità sia romantica che affettiva consolidando i legami tra gli individui. In questa forma d'arte il cromatismo visivo e l'armonia sonora si fondono evocando emozioni e significati impossibili da trasmettere con un solo di questi due mezzi. Nonostante la loro affinità con la tecnologia antica gli Arvian hanno saputo adattarsi e innovare vivendo in un perfetto equilibrio tra passato e presente. Le loro città fluttuanti sono alimentate da un'eredità di conoscenze dimenticate ma la loro società continua a reinventarsi attraverso le arti la tecnologia e la cultura. Custodi di una tradizione unica e di macchine antiche gli Arvian si distinguono come una razza in cui il sapere antico si impreccia con la creatività moderna. Il Felix Cover noto comunemente come gatto coperta è un animale domestico di notevoli dimensioni con una lunghezza che varia dai 150 ai 200 centimetri e una larghezza tra i 90 e i 120 centimetri. La sua caratteristica distintiva è un eccesso di pelle e pelliccia che si estende per tutto il perimetro del corpo conferendogli una forma rettangolare e piatta. Questa conformazione unica deriva dalla fusione dei quattro arti con la pelliccia sovrabbondante rendendolo simile a una coperta vivente. Internamente gli organi vitali del Felix Cover si concentrano lungo la zona della colonna vertebrale mentre il resto del corpo è composto prevalentemente da tessuto adiposo. Questo animale raggiunge un peso medio di 11-15 kg in condizioni di salute ottimale. La struttura fisica tuttavia lo rende poco adatto a movimenti prolungati a causa della debole muscolatura e della difficoltà nel sostenere il proprio peso. Nonostante queste limitazioni il Felix Cover ha una durata di vita media di 9 anni. Il Felix Cover è il risultato di un esperimento condotto da un mago eccentrico e forse troppo ambizioso. L'intento originale era quello di creare una creatura capace di sopportare il freddo estremo combinando gli elementi di gatti preesistenti con caratteristiche di animali dotati di maggior isolamento termico. Questo esperimento diede vita al primo progenitore del Felix Cover noto come Adipengatus una creatura con una quantità di grasso ancora più significativa rispetto alla versione attuale. Sebbene il progetto iniziale fosse considerato un fallimento l'Aipengatus trovò un utilizzo alternativo come animale da allevamento per scopi alimentari. Ci facevano probabilmente il lardo di colonnata. Nei secoli successivi attraverso incroci selettivi e un progressivo affinamento delle caratteristiche desiderate nacque l'attuale Felix Cover. Con il tempo l'allevamento scopo alimentare fu abbandonato e il gatto coperta divenne un animale da compagnia apprezzato per la sua capacità di offrire torpore e morbidezza. spontaneamente adagiandosi sopra i padroni per riscaldarli. Il Felix Cover acquisì una posizione di particolare rilevanza nella società quando un esemplare salvò la vita dell'imperatore da bambino. Caduto in acqua gelida il giovane sovrano fu tenuto al caldo da un Felix Cover un gesto che salvò la sua vita e siglò il destino dell'animale come simbolo della nazione. In onore di questo evento il Felix Cover fu proclamato animale della patria. Ancora oggi una legge stabilisce che l'uccisione di uno di questi animali è punibile con il carcere in antichità si poteva addirittura essere condannati a morte probabilmente per soffocamento da parte di un altro esemplare di Felix Cover. Oggi il Felix Cover è un amato animale domestico grazie alla sua pelliccia spessa e soffice è ideale per offrire comfort e calore ai suoi proprietari svolgendo un ruolo quasi terapeutico nelle case in cui vive. Nonostante le sue dimensioni e la scarsa mobilità il Felix Cover è apprezzato per la sua indole pacifica e il suo legame con la storia e la tradizione del paese. Questo animale con la sua storia bizzarra e la sua singolare anatomia rappresenta un perfetto connubio tra utilità affetto e memoria storica consolidando il suo status come una delle creature più peculiari e venerate del mondo. Sembra quasi che io stia cercando di vendere del merchandise sul Felix Cover. Comprate un cuscino del Felix Cover. Ve lo immagino un po' tipo i cuscini di Snorlax avete presente? Una cosa simile. I Flomps sono creature fluttuanti dall'aspetto adorabile simili a piccole meduse colorate che danzano nell'aria. I loro corpi trasparenti e delicati sono attraversati da pulsanti giochi di luce che variano di intensità e colore utilizzati come parte del loro linguaggio naturale. Questa danza luminosa è accompagnata da un rilascio di fragranze nell'aria una forma di comunicazione olfattiva che aggiunge un ulteriore livello di complessità alle loro interazioni. Sebbene i loro profumi siano spesso piacevoli e dolci quando spaventati o stressati i Flomps emettono odori fortemente nauseabondi un meccanismo di difesa naturale che li rende difficili da ignorare in situazioni di pericolo. La comunicazione dei Flomps è una combinazione unica di segnali visivi, olfattivi e telepatici. I loro giochi di luce riflettono emozioni e stati d'animo creando un linguaggio che è tanto estetico quanto funzionale. I profumi che rilasciano fungono da segnali complementari trasmettendo messaggi di avviso invito o disagio. Tuttavia è la loro abilità telepatica renderli davvero straordinari i Flomps riescono a percepire frammenti di pensieri emozioni e immagini dalle creature circostanti. Questa capacità telepatica pur essendo potente è spesso imprecisa. I Flomps possono fraintendere una fantasia come un desiderio reale o interpretare una paura immaginaria come una minaccia concreta. Questi fraintendimenti li rendono a volte imprevedibili ma mai malintenzionati poveri. La loro indole amichevole e sociale li spinge a cercare interazioni con altre creature spesso reagendo con innocenza e curiosità ai segnali che cattano. I Flomps sono avvolti nel mistero per quanto riguarda la loro origine. Una delle teorie più accreditate suggerisce che siano il risultato di una simbiosi avanzata tra microorganismi fotosintetici e minuscole creature fluttuanti. I microorganismi che vivono nei tessuti trasparenti di Flomps forniscono loro la capacità di illuminarsi e di assorbire percezioni emotive mentre i Flomps stessi contribuiscono con la comunicazione olfattiva una forma di difesa utile a segnalare pericoli o a mantenere l'armonia nel loro ambiente. Un'altra ipotesi di natura magica sostiene che i Flomps siano elementali dell'aria e della luce esseri nati spontaneamente da energie elementali. La loro abilità di captare pensieri ed emozioni rifletterebbe una connessione diretta con la magia e con il flusso vitale che permia il loro abito. In questo scenario le loro luci pulsanti e i profumi non sarebbero altro che un'espressione della loro essenza magica un linguaggio innato che comunica con la loro profonda armonia e il mondo naturale. I Flomps giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio ambientale. La loro capacità di percepire le emozioni e i pensieri delle altre creature li rende dei mediatori naturali in grado di anticipare e disinnescare potenziali conflitti. Inoltre la loro presenza è indicativa di un ambiente sano e ricco di energia vitale poiché i microorganismi fotosintetici che compongono i loro corpi prosperano solo nelle condizioni ottimali. Grazie alla loro natura socievole i Flomps cercano attivamente interazioni con altre specie diventando compagni adorati di chi riesce a comprenderli. Tuttavia la loro imprevedibilità telepatica può generare situazioni comiche o confusionarie rendendo ogni incontro con un Flomps un'esperienza unica. Le loro capacità comunicative straordinarie li rendono oggetto di studio per maghi alchimisti e studiosi della natura affascinati dalla loro combinazione di abilità magiche e biologiche. Gli Icnoidi sono insetti giganti noti per la loro straordinaria capacità di fusione organica che consente loro di combinarsi fisicamente per formare creature di dimensioni e poteri molto superiori. Questa fusione avviene attraverso un processo di aggregazione altamente coordinato in cui ogni Icnoide contribuisce con le proprie capacità uniche alla nuova struttura collettiva. Il risultato è un organismo unitario capace di agire come un essere singolo dotato di intelligenza collettiva e di una forza devastante ve lo immagino tipo un Megazord. La società degli Icnoidi è estremamente organizzata e gerarchica simile a quella di alcune specie di insetti sociali ma con una complessità senza precedenti. Al vertice si trova una famiglia reale composta da membri dotati di intelligenza superiore e considerati il fulcro della colonia. I reali sono costantemente protetti da scorte speciali di Icnoidi che formano composizioni viventi dette gusci reali. Questi gusci sono strutture organiche mutevoli capaci di adattarsi alle necessità della colonia. Possono trasformarsi in torri difensivi, scudi mobili o macchine d'assedio a seconda della situazione. La colonia è governata attraverso segnali chimici e telepatici inviati dai reali. Questi segnali non solo coordinano le attività quotidiane come la raccolta di risorse e la manutenzione delle strutture ma orchestrano anche la formazione e lo smantellamento delle fusioni garantendo che ogni azione collettiva sia precisa ed efficiente. La capacità di fusione è il tratto distintivo degli Icnoidi. Ogni fusione avviene seguendo un processo elaborato e ben studiato non casual. Gli Icnoidi si aggregano in base a schemi predefiniti con ciascun individuo che assume un ruolo specifico nella struttura finale. Questa biofusione non solo aumenta la forza fisica e la resistenza dell'organismo risultante ma consente anche di combinare abilità uniche come la produzione di acidi il volo o l'emissione di segnali elettromagnetici creando un essere estremamente versato. Questa capacità ha una funzione adattativa cruciale in caso di attacco da parte di predatori o altre minacce gli Icnoidi possono trasformarsi rapidamente in macchine difensive o offensive. Inoltre la fusione è utilizzata anche per scopi pacifici come la costruzione di infrastrutture della colonia o il trasporto di materiali pesanti. Gli Icnoidi sono probabilmente il risultato di un'evoluzione unica iniziata con piccoli insetti sociali che vivevano in simbiosi estrema per sopravvivere ai predatori. Con il tempo questi insetti svilupparono una biofusione semplice permettendo loro di formare barriere difensive o masse più grandi per dissuadere i nemici. Questo meccanismo primitivo si sarebbe voluto in una capacità di fusione sempre più sofisticata supportata dallo sviluppo di una rete di intelligenza collettiva. I Giratta sono umanoidi di media statura alti circa 160 centimetri riconoscibili per una caratteristica unica i loro occhi possiedono due pupille una principale e una più piccola nascosta nell'iride che permette loro di vedere nello spettro della luce infrarossa. Questa abilità li rende eccellenti cacciatori e guerrieri capaci di individuare il calore corporeo delle prede o dei nemici anche al buio. I colori degli occhi pur variabili sono sempre uniformi in entrambe le pupille. La loro capacità principale è il controllo del calore possono generare fiamme attingendo alla propria energia corporea. Tuttavia esiste una variante estremamente rara della specie i Dilul in grado di manipolare il ghiaccio. Questi individui facilmente riconoscibili dalla loro pelle chiarissima sono considerati maledetti e associati alla morte. Per tradizione i Dilul vengono eliminati alla nascita una pratica crudele radicata nella memoria collettiva dei Giratta segnati da eventi catastrofici legati al gelo. La cultura dei Giratta è forgiata nel fuoco letteralmente e simbolicamente. La loro storia è intrisa di conflitti e guerre che hanno plasmato una società bellicosa e conquistatrice. Essendo resistenti al calore il fuoco è per loro un simbolo di vita e forza al contrario il freddo e il ghiaccio rappresentano la morte e l'oblio una dicotomia che si riplette anche nel loro sistema religioso. I Giratta infatti venerano una divinità solare chiamata comunemente sole o stella che incarna luce vita e calore. Opposta a questa figura benevola è la divinità del ghiaccio temuta come un'entità oscura e malvagia simbolo di distruzione. I Tilul sono percepiti come servitori di questa divinità gelida e disprezzati dalla società. Un tempo i Giratta vivevano sotto una rigida monarchia teocratica il re era considerato l'incarnazione divina del fuoco e governava un sistema gerarchico dove la famiglia reale e l'aristocrazia erano isolate dal resto del popolo. Durante il periodo noto come il trattato delle mille mani i Giratta si trovarono a negoziare la pace con i Reshim una potente razza di vieti del ghiaccio. Sebbene la tregua fosse vista come necessaria per la sopravvivenza il popolo ancora traumatizzato da una glaciazione devastante che aveva decimato la loro popolazione reagì con sospetto e paura. Le tensioni culminarono con l'ascesa di Brutaux un leader carismatico che orchestrò una ribellione contro la monarchia. Il colpo di grazia avvenne durante la cerimonia per la firma del trattato. Brutaux assassinò il re ponendo fine alla monarchia e dando inizio a una nuova era di ribellione e autodeterminazione. Tuttavia è il caos che ne seguì permise a Brutaux e ai suoi sostenitori di instaurare un regime ancora più violento intensificando la guerra contro il regime. Da allora i Giorata hanno abbandonato il culto di un dio re e si sono orientati verso una società più pragmatica dove forza sopravvivenza e indipendenza sono le virtù supreme. La loro abilità nel controllare il calore non è solo un dono naturale ma anche un simbolo del loro spirito indomani. Per celebrare il passaggio del tempo e l'inizio di un nuovo anno i Giorata organizzano annualmente i giorni del fuoco i giochi del fuoco scusate i giochi del fuoco possono svolgersi durante i giorni del fuoco. Questi eventi includono tornei di gladiatori in gare di resistenza fisica e sfide di caccia alla preda più rara e pericolosa della regione un po' alla Predator i giochi rappresentano non solo un'occasione per dimostrare forza e abilità ma anche un momento di unione comunitaria e celebrazione della loro identità. L'odio verso i Tilul i cosiddetti figli del ghiaccio è radicato nella memoria storica di Giorata la glaciazione che decimò il loro popolo è considerata una punizione divina e i Tilul sono visti come portatori di questa maledizione. Questo disprezzo ha alimentato una politica di intolleranza estrema con i Tilul uccisi alla nascita o esiliati senza pietà. Anche la tregua con i Rishim è rimasta un argomento controverso mai completamente accettato dal popolo. I Moruk sono umanoidi dalla corporatura massiccia e statuaria con una pelle grigia segnata da scanalature che formano motivi a spirale. Queste caratteristiche danno loro un aspetto quasi scultoreo come se fossero stati plasmati dall'altura stessa. Nonostante la robustezza non sono particolarmente alti. I pochi pelli che possiedono come capelli e sopracciglia sono generalmente scuri spesso neri e contrastano con i loro occhi luminosi e saturi i cui colori variano in modo unico da individuo a individuo. I lineamenti del viso sono squadrati e netti con un mento prominente ma è durante i periodi di accoppiamento che i Moruk mostrano un segno distintivo. I maschi sviluppano zanne inferiori prominenti e la forma e la dimensione di queste zanne sono un indicatore di salute e forza e giocano un ruolo importante nella selezione del partner riflettendo un'antica tradizione evolutiva basata sul segnale onesto. Un po' come il piumaggio degli uccelli quando è bello splendido e tutto colorato significa che sono in ottima salute e non sono soggetti a parassiti. Un po' il senso è quello. Sebbene i Moruk non siano una società primitiva la loro cultura conserva questo criterio nella scelta dei compagni. Non so come pronunciarli Moruk Moruk o Moruk Moruk non lo so scrivete anche questo nei commenti l'accento sulla O sulla U Moruk o Moruk i Moruk provengono da un continente oltreoceano un tempo ricco di risorse naturali ma oggi ridotto a una terra arida e inospitale a causa del loro stesso sfruttamento intensivo dell'ambiente la loro migrazione è stata una scelta obbligata dettata dalla necessità di sopravvivere dopo aver consumato fino all'esaurimento le risorse del loro territorio coscienti del declino irreversibile del loro mondo hanno affrontato i pericoli di un viaggio attraverso l'oceano su enormi barche mossi dalla speranza di trovare nuove terre fertili dove poter ricominciare la loro determinazione è stata incrollabile guidata dalla consapevolezza che non c'era altra alternativa se non l'esodo verso un nuovo continente i Moruk possiedono una capacità straordinaria e inquietante riescono gli animali semplicemente fissandoli negli occhi un po' come Crocodile Dundee che faceva così tipo assoggettava la sua volontà i leoni li calmava questo potere telepatico non solo consente loro di controllare le creature ma anche di apprenderne i metodi di caccia integrandoli nelle proprie tecniche sebbene sfruttino la natura e gli animali per il loro sostentamento il loro rapporto con l'ambiente sembra essere solo simbiotico non venerano la natura come fanno altre società ma la trattano come una risorsa da utilizzare da sfruttare un approccio che li mette in contrasto con le tribù native del continente selvaggio in cui sono approdati la cultura dei Moruk è profondamente segnata dal loro stile di vita nomade e da un approccio utilitaristico alla natura che li ha condotti al collasso nell'ambiente del loro continente originale i loro sciamani figure di grande influenza guidano il popolo con un fervore quasi religioso verso le profondità del nuovo continente spingendoli in una continua espansione che li mette in rotta di collisione con le tribù locali questo conflitto non è solo una lotta per il territorio ma una battaglia ideologica le tribù native che vivono in armonia con la natura vedono nei Moruk una minaccia alla stabilità ecologica del continente il timore che i Moruk possano ripetere la devastazione ambientale che li ha costretti a migrare alimenta ulteriormente le ostilità la loro capacità di soggiogare animali e sfruttare le risorse in modo intensivo è percepita come sacrilega dai nativi che cercano di difendere il fragile equilibrio del loro mondo le tensioni si intensificano con l'avanzare dei Moruk che rischiano di consumare ogni cosa sul loro cammino replicando il ciclo distruttivo da cui erano fuggiti i Moruk indossano abiti funzionali e rudimentali composti da pelli di animali e fibre naturali ornati con motivi che richiamano le spirali della loro pelle questi abiti sono spesso impreziositi da trofei di caccia come artigli denti o corna a simboleggiare la forza e la connessione con il loro spirito cacciatore i Morvan sono enigmatiche creature che abitano i profondi recessi della terra vivendo in armonia con funghi luminescenti che crescono direttamente sui loro corpi questa simbiosi non è solo biologica ma anche spirituale ogni Morvan è legato a una specifica specie di fungo un vincolo sacro che definisce il loro ruolo nella società e conferisce loro abilità uniche in questi vasti sistemi di gallerie illuminati dalla morbida luce dei funghi i Morvan hanno costruito una civiltà sotterranea scolpita tra le radici degli alberi più antichi del mondo la connessione con il fungo è il pulcro dell'esistenza dei Morvan questo legame determina non solo la loro salute ma anche la loro utilità per la comunità ogni fungo conferisce poteri distintivi alcune specie permettono ai Morvan di manipolare l'energia vitale altre di influenzare la crescita delle piante di controllare la luce o persino di evocare l'oscurità tuttavia questa relazione fragile se il fungo legato a un Morvan muore anche la creatura comincia a deperire fino a trasformarsi in pietra quando un Morvan muore e si pietrifica non si tratta di una fine definitiva le pietre funerarie delle loro città diventano santuari sacri col tempo nuovi funghi crescono su di esse dando vita a nuovi Morvan questo ciclo perpetuo di morte e rinascita è il fondamento della loro filosofia i Morvan venerano la trasformazione come una parte naturale della loro esistenza vedendo nella pietrificazione un atto di ritorno alla terra una comunione con il cuore del mondo sotterraneo il tipo di fungo legato a un Morvan determina il suo ruolo nella comunità coloro che si legano funghi bioluminescenti diventano guardiani capaci di illuminare le gallerie o disorientare i nemici con spore luminose i Morvan legati a funghi che influenzano la vegetazione fungono da custodi della flora sotterranea garantendo il sostentamento della colonia la selezione del fungo non è casuale gli anziani della comunità decidono quale sporra esporre ai neonati assegnando in anticipo il ruolo che svolgeranno alcuni Morvan legati a funghi dalle proprietà straordinarie possono entrare in strati di trance grazie alle spore prodotte dal loro simbionte in questo stato affermano di comunicare con il mondo degli spiriti ricevendo visioni e messaggi da entità trascendenti questa capacità li rende figure di spicco centrali nella loro cultura ma li rende anche soggetti a pericoli altre specie affascinate o terrorizzate da questa abilità li catturano per sfruttare le loro spore in pratiche spirituali o mediche tali Morvan vengono spesso tenuti in cattività e trattati come strumenti viventi alimentando un conflitto etico tra la loro libertà e il valore delle loro capacità uniche quando minacciati i Morvan possono rilasciare spore che creano una nube bioluminescente per disorientare gli aggressori o illuminare il cammino ai loro compagni in fuga le gallerie in cui vivono sono difese naturali un intricato labirinto che solo loro possono navigare grazie alla loro connessione sensoriale con i funghi e l'ambiente circostante i Nemesis sono creature serpentiformi di proporzioni inimmaginabili la cui grandezza può variare da milioni di chilometri fino a dimensioni misurabili in anni luce sebbene appaiano come esseri viventi la loro natura è avvolta nel mistero alcune teorie suggeriscono che siano il prodotto di un'antichissima civiltà tecnologicamente avanzata creazioni biomeccaniche concepite per sopravvivere all'apocalisse della loro stessa esistenza i Nemesis sono caratterizzati da un corpo segmentato che alterna vertebre e ossee a segmenti costituiti da energia magnetica solida un fenomeno unico che li mantiene uniti e attivi la testa priva di veri orifizi è adornata da solchi a spirale forse sensori per captare i venti solari e altre perturbazioni cosmiche la coda termina con una struttura piramidale di nero-ossidiana simbolo iconico della loro figura il loro corpo inoltre presenta membrane tra i segmenti duri che fungono da vele solari permettendo loro di spostarsi nel vuoto dello spazio con movimenti sinuosi e ipnotici il loro nucleo ipotizzato come una struttura superconduttiva funge da cuore o sistema nervoso emettendo onde che sincronizzano il movimento dei segmenti e regolano l'energia magnetica questo elemento rafforza l'ipotesi della loro origine artificiale suggerendo che siano state progettate per viaggiare nel cosmo alla ricerca di nuove risorse le teorie più accreditate indicano che i Nemesis furono concepiti come enormi astronavi biomeccaniche da una civiltà avanzatissima che aveva esaurito le risorse del proprio quadrante galattico queste creature furono progettate per ospitare intere popolazioni in uno stato di criostasi mentre l'intelligenza artificiale a bordo dirgeva il Nemesis verso regioni cosmiche ricche di energia e materiali utili una volta giunto in una nuova zona il Nemesis avrebbe dovuto trasformarsi in un pianeta abitabile permettendo ai suoi creatori di stabilirsi nuovamente tuttavia si suppone che questa civiltà sia collassata o rimasta intrappolata nel sonno criogenico lasciando i Nemesis a seguire il ciclo automatizzato scambiato dalle altre specie per una sorta di ciclo vitale naturale un Nemesis emerge da un nuovo cosmico un super pianeta ambrato con un guscio estremamente resistente considerato il materiale più duro dell'universo dopo un'incubazione di millenni il Nemesis si schiude e inizia a dirigersi verso una galassia quando impatta con un pianeta con una stella o un sistema solare il Nemesis si attorciglia su se stesso e si cristallizza formando un nuovo super pianeta ambrato questo ciclo perpetuo intreccia i Nemesis al destino dell'universo bilanciando distruzione e creazione la mera presenza di un Nemesis può alterare profondamente l'equilibrio cosmico la sua massa immensa genera curvature gravitazionali capaci di disintegrare pianeti o perturbare intere galassie inoltre le uova dei Nemesis se situate a distanze adeguate da una stella possono diventare delle pulle per lo sviluppo della vita tuttavia questa vita è inevitabilmente condannata alla distruzione al momento della schiusura dell'uovo le altre specie che abitano l'universo spesso fraintendono la natura dei Nemesis vedendoli come creature viventi e attribuendo loro un ciclo vitale anziché riconoscerne l'origine artificiale le uova di Nemesis attraggono avventurieri e scavatori desiderosi di estrarre il prezioso guscio ma questa operazione è molto rischiosa dal momento che alla schiusa il neonato Nemesis distruggerebbe le navicelle senza nemmeno rendersene conto essendo tanto vasti quanto antichi i Nemesis sono rarità cosmiche alcuni esemplari potrebbero essere andati distrutti in collisione con stelle galassie o buchi neri mentre altri potrebbero vagare eternamente nello spazio profondo invisibili a ogni forma di rilevamento i Quantar sono esseri straordinari capaci di trascendere i limiti della realtà ordinaria e di esistere simultaneamente in più dimensioni la loro padronanza della fisica quantistica li rende unici nell'universo permettendo loro di alterare materia spazio e tempo a proprio piacimento per loro le dimensioni non sono barriere ma corridoi che attraversano con facilità e le loro città fluttuano tra diverse realtà sfuggendo a ogni tentativo di localizzazione o comprensione da parte di specie vincolate a un'unica dimensione la natura multidimensionale dei Quantar è tanto una benedizione quanto una maledizione quando la loro coscienza si estende su più piani di esistenza si frammenta generando personalità separate ogni frammento agisce indipendentemente raccogliendo esperienze e informazioni che rimangono isolate fino a quando il Quantar non si riunifica questo processo di riconciliazione sebbene momentaneo fonde le esperienze accumulate in un'unica coscienza tuttavia fino a quel momento i Quantar appaiono mutevoli e imprevedibili un frammento di uno stesso Quantar può essere gentile e collaborativo mentre un altro frammento nello stesso istante può risultare freddo e ostile se un frammento della coscienza non riesce a ricongiungersi al Quantar principale l'essere rischia di diventare rotto in questo stato corrotto la loro mente si disgrega ulteriormente e il Quantar inizia a influenzare l'ambiente circostante in modi inspiegabili manipolando involontariamente spazio-tempo e logica trasformando l'area intorno a sé in un luogo di confusione e distorsione questi luoghi sono percepiti dalle altre specie come siti di culto o fenomeni paranormali dove il contatto sensoreare con la realtà diventa impossibile o più difficile vedere un Quantar rotto è un'esperienza impossibile da definire prolungare l'esposizione a queste aree causa un progressivo svuotamento mentale portando alla perdita delle connessioni logiche e della percezione del tempo questo stato può essere innescato anche da eventi traumatici o episodi dissociativi dei Quantar stesso che lo spingono a frammentarsi oltre il punto di recupero i Quantar comunicano attraverso un sistema complesso di vibrazioni e risonanze dimensionali un linguaggio che per le altre specie può sembrare musica eterea o eco-ultraterreni questo metodo è comprensibile solo a coloro che possiedono una percezione quantistica rendendo il loro linguaggio quasi impossibile da decifrare per gli esseri tridimensionali in alcuni casi i Quantar utilizzano i sogni per comunicare con razze dimensionalmente vincolate manipolando le percezioni oniriche inviando messaggi o influenzando gli eventi senza interagire direttamente con il piano fisico tuttavia questo metodo è controverso anche per loro molti Quantar considerano questa pratica una forma di manipolazione non etica da riservare solo a situazioni estreme i Quantar si considerano custodi delle leggi fondamentali che regolano le dimensioni un ruolo che li porta a interagire con altre specie solo in rare occasioni tuttavia la loro natura frammentata e le loro capacità di manipolazione li rendono oggetto di timore e venerazione alcuni li vedono come dei altri come minacce cosmiche instabili individui corrotti incapaci di riunificarsi rappresentano un pericolo imprevedibile non solo per le dimensioni che abitano ma anche per le civiltà che ci vivono i Quantar sani evitano con attenzione queste aree corrotte consapevoli che una permanenza prolungata potrebbe innescare il proprio stesso decadimento i Quabbins sono affascinanti creature anfibie originarie di paludi lagune e altri ambienti umidi che si distinguono per la loro personalità vivace e per un tratto sorprendentemente esplosivo con il loro aspetto piccolo e rotondo simile a un rospo e una pelle morbida variopinta che spazia dal verde brillante al viola acceso i Quabbins sembrano creature pacifiche e adorabili tuttavia la loro natura imprevedibile li rende unici quando sono nervosi eccitati o arrabbiati hanno la capacità di gonfiarsi rapidamente fino a esplodere la pelle dei Quabbins è gommosa e altamente elastica un adattamento fondamentale che gli permette di espandersi rapidamente senza subire danni permanenti durante le loro esplosioni il processo esplosivo pur essendo caotico è sorprendentemente innocuo genera solo una nube di fumo o piccoli detriti disorientando chi li circonda ma senza causare terri me lo immagino tipo come un grosso gigarutto la loro dieta gioca un ruolo cruciale in questo fenomeno l'ingestione di particolari aighe e punghi può influenzare la natura dell'esplosione producendo effetti come gas luminescenti o polvere scintillante che aggiungono un po' di magia al loro esibizio si ritiene che i Quabbins si siano evoluti in ambienti ricchi di piccoli predatori la capacità di gonfiarsi ed esplodere sarebbe nata come una forma di autodifesa per disorientare o spaventare i nemici garantendo la sopravvivenza senza la necessità di infliggere danni col tempo questo comportamento si è integrato nella loro cultura sociale trasformandosi in un mezzo di comunicazione e celebrazione i Quabbins sono creature altamente sociali note per il loro amore per i giochi gli scherzi e le interazioni di gruppo le esplosioni non sono solo un riflesso emotivo ma anche una forma di espressione culturale eventi importanti nella vita dei Quabbins come l'inizio di una nuova stagione o i rituali di accoppiamento sono celebrati con esplosioni sincronizzate uno degli eventi più spettacolari della loro cultura è la grande esplosione di primavera durante questo rito collettivo centinaia di Quabbins si riuniscono per gonfiarsi simultaneamente creando un fenomeno straordinario di fumo colorato e luci incandescenti luminescenti che segna l'inizio della nuova stagione delle pioghe i Quabbins vivono in perfetta armonia con i loro ecosistemi sebbene le loro esplosioni possono sembrare distruttive in realtà favoriscono la dispersione di semi e spore contribuendo alla rigenerazione delle piante acquatiche e dei funghi inoltre grazie ai loro canti gutturali e ai salti acrobatici animano le paludi prendendole luoghi vivaci e pieni di energia tuttavia le altre specie spesso li considerano imprevedibili e non sempre è facile convivere con i loro scherzi esplosivi alcuni animali imparano a evitarli mentre altre specie più curiose si avvicinano per osservare le loro strane abitudini affascinate dalle loro unicità il volterio è una creatura serpentiforme straordinaria originariamente composta di silicio anziché carbonio che ha sviluppato una singolare capacità di nutrirsi di elettricità questa peculiarità combinata con la sua bioluminescenza adattiva e un comportamento mimetico ingegnoso lo rende un elemento unico tanto negli ecosistemi naturali quanto nelle aree urbane seppur relativamente innocuo per gli esseri viventi il volterio rappresenta una sfida per le infrastrutture energetiche il corpo del volterio è composto da una struttura flessibile e resistente formata da silicio e materiali ferrosi assimilati nel tempo questi elementi metallici vengono utilizzati per crescere e rafforzare la sua struttura segmentata una caratteristica unica è la sua lingua un filamento di rame affilato che serve sia per estrarre energia elettrica da fonti esterne sia per comunicare con altri esemplari tramite impulsi elettrici me l'immagino un po' R2D2 che infila il suo cosino nelle porte USB di qualsiasi cosa gli capitati un tratto distintivo è la bioluminescenza regolata dall'energia accumulata questa luce che può variare dal bianco brillante al blu o al rosso ha una doppia funzione comunicativa per interagire con i propri simili e difensiva per confondere i predatori fingendosi a fonte luminosa artificiale inoltre tracce di mercurio nella sua composizione interna potrebbero contribuire a regolare le emissioni luminose non mi pare chiaro che tipo di predatori queste creature possono avere però in un mondo fantascientifico o science fantasy potrebbero esserci dei predatori robotici che si nutrono di cose di metallo il ciclo vitale del volterio è scandito da una crescita graduale che culmina in un processo di scissione quando l'organismo raggiunge una certa lunghezza grazie ai materiali assimilati si divide in due nuovi sempari autonomi durante questa scissione l'energia accumulata viene equalmente divisa tra entrambi gli individui garantendo a tutti e due una riserva per riuscire a sopravvivere e prosperare almeno per il periodo iniziale dopo la scissione i volterio entrano in uno stato di ibernazione annuale durante il quale formano colonie sotterranee collegate tramite i loro filamenti di rame questa rete vivente consente loro di far circolare energia in modo collettivo mantenendo un basso consumo e ottimizzando le risorse durante l'ibernazione i materiali metallici assimilati vengono riorganizzati per rafforzare la struttura fisica preparando la creatura al risveglio ad intervalli regolari alcuni individui si destano per cercare nuovi punti di energia una volta prelevata questa viene riportata alla colonia alimentando l'intera rete e garantendo la sopravvivenza di tutti gli esemplari astuto e adattabile il volterio si avvicina frequentemente a fonti di energia artificiale come lampioni o elettrodomestici per assorbirne l'elettricità quando si insedia in una fonte luminosa finge di essere una normale lampadina sfruttando la sua bioluminescenza per mimetizzarsi questo comportamento è un'efficace stratagemma difensivo contro predatori e umani la bioluminescenza non è solo uno strumento di mimetismo i volterio usano variazioni di colore e intensità per comunicare tra loro scambiando informazioni vitali come la posizione delle fonti energetiche o segnali di allarme l'origine del volterio è con ogni probabilità artificiale è plausibile che sia stato progettato come uno strumento per le operazioni in ambienti ostili come il salvataggio di persone intrappolate sotto le macerie la sua capacità di percepire campi elettromagnetici e di muoversi agilmente in spazi ristretti suggerisce un design pensato per applicazioni ingegneristiche tuttavia col passare del tempo questa creazione si è evoluta in una specie autonoma capace di adattarsi e prosperare in modo indipendente la relazione tra i volterio e la società umana è complessa sebbene innocui per gli esseri viventi il loro comportamento opportunistico li rende una minaccia per le infrastrutture energetiche la loro presenza in aree urbane o rurali provoca spesso guasti a lampioni e reti elettriche spingendo alcune comunità a cacciarli per recuperare materiali accumulati nel loro corpo e ridurre il consumo di elettricità nonostante i compliti i volterio svolgono un ruolo interessante nell'ecosistema la loro capacità di riciclare materiali metallici rappresenta un contributo unico alla gestione dei rifiuti metallici nell'ambiente inoltre le reti viventi formate durante l'ibernazione suggeriscono un modello di cooperazione biologica basato sull'energia aprendo nuove possibilità di studio per la bioingegneria e l'ecologia i trindar sono creature draconiche di rara maestà che si nascondono tra le vette più remote e inaccessibili delle montagne questi draghi non sono solo guardiani delle terre più elevate ma custodi di cristalli unici capaci di contenere le anime dei defumi dotati di un legame profondo con il mondo spirituale i trindar proteggono gelosamente queste reliquie svolgendo un ruolo cruciale nel ciclo delle anime e nella preservazione della conoscenza universale ogni cristallo custodito dai trindar rappresenta l'essenza di un'anima depunta i draghi hanno l'abilità unica di comunicare con questi anime ricevendo consigli visioni del passato e frammenti di saggezza questa connessione spirituale consente ai trindar di comprendere le storie e le esperienze vissute da coloro che dimornano i cristalli rendendoli depositari di una saggezza millenaria i cristalli non solo contengono le anime ma sono anche una fonte di potere e conoscenza per coloro che riescono ad accedervi i mortali che si avventurano nelle caverne di trindar spesso cercano risposte o desiderano acquisire le abilità rinchiuse in quelle reliquie interagire con un cristallo può conferire competenze straordinarie tramandate dalle anime al suo interno ma solo coloro ritenuti degni dai trindar possono attingere a questo sapere secondo le leggende i trindar non sono semplici draghi ma frammenti di una divinità draconica sacrificatasi per proteggere le anime dei suoi fedeli la divinità per garantire che il ciclo della vita e della conoscenza non andasse perduto avrebbe diviso la sua essenza creando una moltitudine di piccoli draghi custodi ogni trindar rappresenta una scintilla di questo potere divino e i cristalli delle anime sono considerati frammenti della volontà della divinità originale questa natura sacra conferisce ai trindar un'aura di venerazione e rispetto proteggono i cristalli non solo come reliquie spirituali ma come parte della loro missione divina garantendo che le anime trovino un degno successore o una nuova opportunità di rinascimento non tutti coloro che si avventurano nelle caverne dei trindar riescono a ottenere ciò che desiderano questi draghi mettono alla prova i mortali valutando la purezza d'animo la forza di volontà e le intenzioni solo i più meritevoli possono accedere al potere dei cristalli o ricevere le visioni delle anime al loro interno per i trindar la protezione di queste reliquie non è solo un compito ma un sacro obbligo che non può essere violato ora è il vostro turno sentitevi libere di arricchire ciascuno di questi concept prestando particolare attenzione alle influenze culturali che possono determinare o arricchire la società in cui queste creature vivono piccolo dettaglio il senso di questi video è creare delle specie delle specie giocanti per dirla a D&D delle razze specie giocanti quindi l'idea è di costruire delle società complesse ecco non degli animali che se la girano in giro come per lo scorso video lascerò in descrizione un commento col nome di ogni singola specie perché è il modo più comodo per mantenere le cose ordinate rispondete a quelli per proporre le vostre idee e ovviamente sentitevi liberi di creare delle nuove specie completamente da zero e che altro dire buon divertimento